27 dicembre 2018, le mangiate di Natale sono alle spalle ed è meglio incominciare a preoccuparsi dell'aumento di peso, quindi oggi un bellissimo World che ci potrà sicuramente dare una mano in questo senso. 18 minuti unwrap, 60 double hand, 30 wall ball, 15 deadlift e 10 bar muscle up, scalature e pesi come al solito sulla grafica qui di fianco, ci rivediamo domani per un altro World su Ciper TV.